Ciao ragazzi, breve video però per dirvi una cosa importantissima per il canale allora sapete benissimo che in descrizione di ogni video ci sono dei link referral Amazon a dei prodotti che riguardano un po' il mondo della realtà virtuale, visori, router, cose così insomma cose utili per la VR ogni qualvolta voi acquistate un prodotto attraverso quel link referral insomma a me sarà riconosciuta una piccola commissione però a voi chiaramente il prodotto non posterà un centesimo in più quello che volevo dirvi è che qui nel mese di luglio Amazon mi ha fatto partecipare a questa specie di promozione in cui mi aumenterà un po' le commissioni di vendita dei vari prodotti attraverso il link referral quindi se volete dare una mano, un supporto ancora maggiore al canale sappiate che qualsiasi cosa che dovete acquistare in questo mese di luglio e che acquisterete attraverso un mio link referral mi farà guadagnare una percentuale un po' maggiore rispetto al solito vi ricordo che insomma il 16-17 luglio ci sarà anche il Prime Day quindi quale occasione per voi per risparmiare insomma qualcosa se dovete acquistare qualcosa e contemporaneamente sostenere anche il canale perché se lo acquisterete appunto con un mio link referral insomma mi sarà riconosciuta come avete capito una percentuale un po' più alta per quanto riguarda tutto il mese di luglio quindi compresi anche i giorni del Prime Day quindi vi lascio giù qui in descrizione un link generico insomma un link referral generico che rimanda semplicemente al sito di Amazon e poi potrete acquistare sia che seguiate un link di un prodotto che consiglio in descrizione sia che seguiate appunto questo link referral generico poi vi basta cliccare appunto sul collegamento vi si aprirà Amazon ok? e da quel momento in poi qualsiasi cosa che acquisterete in quella sessione che sia una lavatrice la lavastoviglie, insomma un paio di scarpe insomma qualsiasi cosa insomma acquisterete di quell'oggetto lì mi sarà riconosciuto comunque una piccola percentuale visto che siete entrati insomma su Amazon attraverso il mio link referral quindi non è necessario quindi che acquistiate proprio quel prodotto che vi consiglio poi di acquistare quello che volete basta che entriate su Amazon attraverso il mio referral quindi assolutamente qua a luglio potrete avrete una possibilità insomma di sostenere a costo zero il canale di sostenerlo insomma un po' più in maniera un po' più grande rispetto al solito chiaramente anche guardando le pubblicità nei video eccetera cercando almeno di di non schippare quelle di non usare insomma di block per schipparle tutte ma almeno qualcuna vederla anche questa cosa qui chiaramente mi permette di guadagnare qualcosina però anche io sono il primo che schippo le pubblicità e sono onesto assolutamente quindi le pubblicità sono sempre un po' una rottura di scatole però insomma questo metodo dei referral insomma vi basta veramente entrare con un link e lì potrete sostenere il canale semplicemente facendo acquisti normalmente su Amazon quindi assolutamente a costo zero per voi quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio se per qualsiasi cosa acquisterete insomma attraverso i miei link referral quindi questo era tutto quello che volevo dirvi dal vostro live show back to VR quindi è tutto e ci vediamo ai prossimi video buoni acquisti in questo Prime Day ciao a tutti